Ciao a tutti e benvenuti al secondo video tutorial del progetto ProsoPrat. Nel primo video abbiamo visto come iniziare a muoverci all'interno di Prat e nello specifico come segmentare il file audio, inserire le pause, come trattare il rumore e come comportarsi in alcuni casi specifici come per esempio quelli in cui intervengono dei fenomeni fonosintattici nella catena parlata. Se vi siete persi il primo video non temete, potete recuperare cliccando su questo link. In questo secondo video vogliamo analizzare un fenomeno che si sviluppa proprio a confine di parola, cioè un fenomeno di Sandi esterno. Il termine Sandi esterno indica quel processo fonetico che interviene tra segmenti contigui al confine di parola. Il fenomeno di Sandi esterno che analizzeremo è chiamato raddoppiamento fonosintattico. Il raddoppiamento fonosintattico si verifica nell'italiano standard a base toscana e in molte varietà centro-meridionali di italiano, sia pure con modalità almeno in parte differenti. Il raddoppiamento fonosintattico consiste nell'allungamento o geminazione della consonante iniziale di una parola che sia preceduta da una parola tronca o da alcuni morfemi capaci di indurre il raddoppiamento. Ascoltiamone alcuni esempi. Però a tutti gli scontrini delle cene. Per segnalare la geminazione della consonante della parola seguente scriviamo di seguito alla parola che attiva il fenomeno trattino basso RF maiuscolo. Nel caso in cui ci troviamo in presenza di una parola che di norma innesca la geminazione, ma quest'ultima non viene effettuata nella catena parlata che stiamo esaminando, segnaleremo questa eventualità scrivendo trattino basso NRF maiuscolo. Così. Adesso vediamo più in dettaglio in quali contesti è possibile trovare il raddoppiamento fonosintattico nell'italiano contemporaneo. Questo fenomeno si verifica essenzialmente in due contesti. Dopo una parola accentata sull'ultima sillaba, ivi inclusi i monosillabi tonici, ad esempio andrò piano, farà tutto, mangerò tutto, va forte, re latino, tre cani. In questo caso è detto prosodico. Dopo una serie di morfemi monosillabici, per esempio e, o, o, e, se, o bisillabici, come, dove, sopra, qualche. Ad esempio, io e te, ho fame. In questo caso è detto morfologico. Il primo tipo di raddoppiamento sintattico è detto prosodico perché avviene in base a uno specifico condizionamento di tipo accentuale. Il secondo, invece, è di tipo morfologico perché è innescato da una lista chiusa di elementi morfologici, per lo più preposizioni, forme ausiliari, congiunzioni. Inoltre, quello prosodico è regolare, cioè si applica tutte le parole con accento finale di parola, mentre quello morfologico può dirsi irregolare, perché non si applica sulla semplice base di una regola fonologica contestuale. Dei due tipi considerati, solo il raddoppiamento prosodico può dirsi produttivo. Esso si applica, cioè, a tutte le parole, anche in prestiti, purché venga rispettato il vincolo prosodico che lo innesca. Ad esempio, caffè forte. Il raddoppiamento fonosintattico-morfologico può essere innescato da queste parole. Ecco nell'elenco. Parole funzionali monosillabiche deboli, a, da, su, tra, fra, e, o, ma, se, che, ne, ciò, tu, già, più, qui, qua, lì, là. Forme monosillabiche forti, nominali, aggettivali, verbali, di, re, sci, te, blu, tutti i nomi delle lettere dell'alfabeto e delle note musicali, alcuni pronomi, me, te, se, chi, e alcune forme verbali di largo uso come alcuni polisillabi parossitoni, ovvero piani, qualche, come, sopra, dove. Il raddoppiamento fonosintattico-prosodico, invece, può essere innescato da tutte le parole ossitone, ovvero tronche, siano esse parole funzionali, come perché, poiché, chissà, così, o sostantivi in ità, verbi con passato in o, i, o con futuro in erò, irò, era, irà. Attenzione, il raddoppiamento fonosintattico non è osservabile nei casi in cui la parola che subisce la geminazione inizia con una consonante intrinsecamente lunga in posizione, fonosintatticamente intervocalica, né per un nesso consonantico eterosillabico. Fondosintattico-prosodico, Fondosintattico-prosodico,